Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Marco95 e ben ritrovati in un nuovo video di Farming Simulator 2011 Allora, dopo una lunga assenza di video, diciamo, sono ritornato e, diciamo, sono partito praticamente da capo Oggi ho deciso di far vedere questa mod qui, Massey Ferguson 8480, che a differenza degli altri trattori, quando si ara, praticamente, come possiamo dire, va entro solto, ecco Quindi se siete stanchi di arare al solito modo, prendetevi questo, Maria1 non piacciono i Massey Ferguson, però per cambiare, diciamo che può andar bene Peccato che non sia una mod del terreno, come pensavo, ma è solo praticamente il trattore che si, è solo il trattore che, che praticamente, si inclina, quindi va entro solto, da, praticamente, l'effetto della terra morbida, praticamente Quindi Mettiamolo subito alla prova, per farvi vedere che non mi sta neanche a capo niente E, ecco di qui Quindi, ecco di qui Sì, ecco di qui Io mi sono cercato di un po' non toglie da rari campi ma per cambiare potremmo avere il solito modo insomma anche non esce qualcuno su un metro più mitofenici quindi invece se a rate e a rate fuori non succede niente e non succede niente neanche se andate su da terra quindi vi metterò il link in descrizione di questa moto qui e se volete vi metto il link in descrizione di questo modo qui di questo bell'aratro quindi se siete stanchi di fare questi pezzettini piccolini qui di terra rata prendetevi questa insomma e logicamente l'ho adeguata ad un trattore insomma adeguato molto bello anche questo anche al suo interno così per questo è tutto da Marco95 è tutto ciao a tutti